Ciao ragazzi, sono qua, vi invito, bye Dominican Power, niente, sono qui e prima di tutto per augurare Buon Natale a tutti voi, a tutti i miei fans, a tutti i nostri fan, a tutti i fans di Dominican Power che ci seguono da sempre. Quindi con tutto il cuore che vi auguro il meglio del meglio, non solo Natale, ma per tutto l'anno, per tutto il 2014 e per tutto il resto della vostra vita. Grazie a tutti. 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 la loro situazione si migliori in un modo o nell'altro, quindi un abbraccio a tutti, un abbraccio veramente a tutte quelle persone che non hanno, non sono fortunati quanto noi, almeno che fanno i quali Natale, non si faranno niente. Che Dio vi benedica e un abbraccio a tutti, ciao.